La processione corteo verso la parrocchia dei Santissimi Cosme Damiano. Dietro al confalone del Comune Ospicante ci sarà il confalone della congregazione degli Orlati di San Giuseppe portata dai figuranti del Paglio alla sezione di San Damiano. La protezione civile subito dietro porterà la teca con le reliquie del Santo e tutti i sacerdoti.